ok ragazzi allora allora snake abbiamo avuto diciamolo diciamolo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e quindi vedrete un taglio perché sennò è inspiegabile il taglio che vedranno quindi diciamolo si semplicemente c'era creato tipo un bug nel server vabbè niente niente di che perché io ho semplicemente convertito dalla versione 1 0 1 1 e quindi abbiamo spiegato sì sì sicuramente ti sia spiegato a chi segue minecraft comunque abbiamo avuto un piccolo bug abbiamo interrotto un attimo e adesso riniziamo dallo stesso identico punto non preoccupatevi giusto sì perfetto allora io voglio farmi il la pietra focaglia ma mi sono dimenticato a ecco devo cuocere il ferro grezzo ne cuocio due c'è che pizze che sta all'obiettivo di non usare i trucchi ma avendo tutto questo poco ferro la voglia te se lo userei almeno un give con qualche pezzo di ferro no no noi siamo dei pro quindi non li usiamo adesso posso farmi il flint and steal errore mio ecco qua oddio oddio mi sto allargando si chiama acciarino oh mio dio ma chi l'ha tradotto sto cosa un bambino no ma ho detto che comunque acciarino si usa eh ah davvero mi sa che mi aiuto pliskin ok ho fatto un mega iper epic super super mega iper fail adesso ho l'ossidiana e ho l'accendino adesso aspetti perché sennò io non vedo niente dai aspetta un attimo che sto finito dai ti raggi sto smantellato se mi viene da una mano finiamo subito dai che voglio andare nell'inferno non è una bella cosa come no in senso uno che vuole andare proprio di sovo lontano all'inferno si lo so ho capito comunque io non mi ci metto qua con l'ossidiana perché se cavo di sotto perdo tutta l'ossidiana quindi meglio che facciamo il portale e poi andiamo via te prego stargilla comunque la sto perdendo miseramente perché comunque non so come l'avremo di capire è appunto vabbè dai vieni qui sopra aspetta aspetta vieni perché snake dai aspetta dai metti puoi scegliere io non ci vengo lì perché sai io avrei paura di non è perché sai se perdiamo l'ossidiana eh sì sì ho capito ho capito allora mo te crea una strada falliamo degli obiettivi me sa che devo mettere non fatto come obiettivo ma falliti oh a meno che tu non usi i trucchi per poter mettere l'ossidiana cosa che noi non faremo esatto e senti poi c'hai per caso della terra da da piamme da damme eh sì 64 possono bastare sì sì dai intanto ti do l'argilla grazie prego donna quanto è ti ho detto che ce n'è un casino donna ci potremmo fare la casa dei mattoni altro che legno e cobblestone perché tu vuoi fare una sola casa no ne faremo due tre cinque sei mila ottocento nvanta due e io ne voglio uno dei mattoni va bene qual è il problema tu hai qualche problema io no no che bello non serve senza mostri è c'è credo abbiamo messo luce ovunque perché se ricordiamo bene la luce deve essere meno di sette per poter spawnare il mostro esatto non mi ricordi da di precisi una torcia ne fa quattordici noi mi sa che una torcia fa quattordici la lava ne fa quindici e il sole fa quindici se qualcuno poi se poi questi dati sono sbagliati vabbè qualcuno mi corregga puoi iniziare a venire qui che ti ho fatto la piattaforma per fare cosa lì il portale no per darmi una mano a finire di togliere tutta questa arcilla ok allora poso un attimo l'ossidiana si io mi do una mano e creiamo pure un'altra paletta perché sennò non finiamo più qua oh le palette sono la cosa più cioè ci vittono subito a distruggersi eh si un attimo che ne faccio un po' eh ecco mi si è appena rotta cioè mi sta cadendo non so quanta argilla per terra ma per quanto ce n'abbiamo cioè penso che sia insignificante che mi cade che pensi? un attimo uno due adesso anch'io c'ho due pale tre però la terza mi sta fin la terza mi sta per distruggersi sta per rompersi mh ah lo sai che cosa ci fanno su sta piattaforma visto che ormai ce l'abbiamo ci facciamo un bel fondo alto così ci possiamo mettere l'acqua sotto e ci fanno l'orto qua un bell'orto gigante ah perfetto visto abbiamo trovato tanto abbiamo l'acqua infinita no? si si paletta paletta oh adesso ti sto per passare la paletta eccola perfetto perfetto no altaterra ti serve? no no per adesso no per adesso dobbiamo altro fango comunque una casa la devo fare in fango e merda va bene la faremo oh non mi spingere tu stai? ah non te l'avevo visto perché sto a guardare in alto eh dai sai hai l'impulso di buttarmi giù dai eh si sono abituato a vederti cadere quindi po' scherzare ah grazie si si però un attimo che facciamo una piattaforma piccola solo per l'orto eh si si ma lo sai come la volevo fare io? aspetta eh allora la volevo allargare leggermente adesso facciamo i progetti fatti per bene allora questa pure se la perdiamo non fa niente questa qua la perdiamo questa qua la perdiamo allora ora così questa qua diciamo che sono le scale fatte così si comunque non so se tu conosci quelli di mega 64 adesso non voglio spammare no perché? eh volevo fare ispirando non è che volevo adesso copiare ma se ti va a te e agli altri oltre a fare let's play, commentari e così via sempre riguardo ai videogiochi volevo fare dei film Xeon aspetta un attimo Xeon e allarghiamola un po' ah no vabbè mi sembra abbastanza larga no niente continua continua eh l'ho detto io volevo dire se vogliamo fare qualche cortometraggio basato su videogiochi ah si perché no ci possiamo anche provare aspetta l'allargo un po' verso le quante dobbiamo solo trovare il tempo utile eh si il sabato della domenica allora no più che altro se cosa di coinvolgere anche altri nostri altre persone si si e beh certo che lo vogliamo fare ad esempio altri nostri amici anche le ragazze intendo eh perché ci sono anche sai ci sono anche personaggi femminili nei videogiochi che sono solo maschi Xeon mi passeresti qualche blocchetto di qualcosa? anzi io vorrei chiedere ai fan prima se dici c'è qualche gioco che possiamo fare come cortometraggio perché no? infatti bro bella idea oh ti do un po' di terra eh o cobblestone eh terra terra anzi terra o pietra grezza terra mille mila di terra no ho sbagliato ho failato no ho failato un'altra volta perché dovevo fare prima di sotto poi il bello è dirto sarebbe sporco però vabbè perché lo sai è un po' di sporco lo sai io che cosa volevo fare qui praticamente? allora volevo fare quello strato dove stiamo camminando adesso pieno di acqua perché così se c'è l'acqua cresce bene l'orto e tutto il pieno di sopra facevamo l'orto che ne pensi? sì è una buona idea sì ottimo quindi tu vuoi fare tipo un'incavatura esatto perché così e se no da dove piano l'acqua le piante e quindi da qui l'idea di fare così uno due aspetta sì ma adesso se ti scavi sotto i piedi cadi di sotto quindi devo fare in modo di fare un'incavatura senza cadere sì infatti vabbè ma l'incavatura tanto qua c'è va solo l'acqua non ci interessa a noi in un secondo momento andare qui sotto quindi possiamo anche cioè non so se mi ha capito dai che voglio andare all'inferno nether nether ecco ecco non so come lo chiamano in italiano il nether penso che rimanerà uguale il nome però boh io direi che lo faremo dopo l'orto andiamo all'inferno 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 andate tutti all'inferno no scherzo comunque sì sì adesso a te l'onore pensiamo un attimo madonna che foresta io vorrei fare il portale d'inferno con minor possi ecco bene eccola eccola vorrei fare il portale d'inferno con minore snake scusa è perché non trovavo la strada vai vorrei fare il portale d'inferno con minor uso di possidiana così perché se sbagliamo non abbiamo i piccoli di diamante no ma mi sa non per dire una cavolata ma mi sa che abbiamo l'ossidiana giusta giusta per quello misero diciamo non per quello grosso davvero mi sa che sì allora io se fossi in noi poserei tutto quanto terra argilla queste cose qua e porterei solo un blocchetto da 64 di o di terra no di terra perché no di terra perché dammelo anche a me perché praticamente ci ci serve nel caso dobbiamo scavare qualcosa come punto d'appoggio no gli altri si me li porto tutti sì quelli sì per forza il blocco da 64 tanto posso costruirmi di quanto mi pare eh sì ok stiamo a posto adesso se si è avviato pure qualche torcia la cedio me lo porto qualche torcia ce l'hai sì io ce ne ho 9 no aspetta aspetta non lo fare ma ma nell'inferno ti può servire la torcia perché no eh lì non ci sai c'è la ovunque è vero vabbè io ce ne ho 9 torce adesso dimmi dove vuoi passare l'ossidiana allora è perché contando che poi non la possiamo più togliere quindi dobbiamo ragionare per bene allora io la metterei qui però verso così così ta 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 capito come allora qua 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 c'è un cubo di distanza dal bordo fallo qua qua sopra ah perfetto perché così qua aspetta poi seguivamo il consiglio del mio fan e facevamo il castello lo allargavamo un po' facevamo un castellino scusate sono un attimo suonato in pausa ma volevo un attimo consultare allora per fare quello economico devi fare due qua vabbè valla a vedere così siamo più sicuri perché non mi ricordo meglio che vado a vedere su io vado su minecraft wiki che secondo me è la guida più completa di minecraft si si no non sono tre sono due eh due che ho detto io due per tre si ok allora piazza allora aspetta eh non toglimi la terra no no tranquillo cerco di fare non failare che poi ci tocca per forza sei citto erano tre quindi così così se ti serve una scaletta per scende te la faccio io aspetta aspetta ce l'hai la terra da piazza là sopra si ok dietro di te ti ho fatto una scaletta per scende grazie aspetta ok perfetto tu stai ma sei già sceso rompi sta terra però perché è brutto si si no ti avevo fatto la scala che scende solo per quello perfetto no è rimasto un blocchetto da terra là sopra oh mi dà passere no 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 rimetticelo perché io ci farei un po io ci farei quattro cose così è brutto e ci mettiamo la goblet o no intorno casomai no la terra che brutta la terra non mi interrompere che stavo per dire cobblestone anzi come si chiama pietra grezza pietra grezza ok te l'ho piata io così ce la puoi mettere al tuo bel port ma mi stai più in giro ce l'avevi si ma va va ma io ho già preso tu non ti ricordi io ho preso un blocco da 64 e un blocco da 64 di terra e pietra grezza ma va bene aspetta 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 conti te che dici se mettiamo anche sui lati così lo rendiamo più carino cioè tipo così dai non ta regge fatto ok pure dall'altro lato mi spingere no tu mi spingi e come lo famo mettere sopra famo una scaletta di terra vado no devi per far sabbellire tutto quanto eh si perché sennò è brutto sto cosa questo portale degli inferi io già ho io volevo fare un cartello e scriverci sopra direttamente quello che doveva essere vai vabbè lo fammo dopo ovvero lascia anzi non dico che cosa voglio scrivere così mi rilascia un po' il gusto della sorpresa va bene ok siamo pronti guardate che carino che è così ok aspetta 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 è più tenebroso mettiamoci davanti no ecco qua ta vai aspetta ta vai eh che pro che sei dai guarda che figo vai uno due tre oh oh